Cosa consiglia oggi Penny? In una padella con poco olio rosolate un trito di cipolla, carota e setano, poi metteteci a rosolare anche la carne macinata. Condite con un pizzico di sale e aggiungete poi funghi a fettine e la polpa di pomodoro. Aggiustate di sale e di pepe e lasciate cuocere per circa 15 minuti. Dibocciate le patate e tagliatele a fette molto sottili, se le avete aiutatevi con una mandolina. Usatele poi per foderare il fondo ai lati di uno stampo da pancake, precedentemente oliato e spolverizzato tipo angrattato. Coprite le fette di patate e poi con il formaggio, sia la base che i lati. Prendete la carne macinata ai funghi e distribuitela sopra il formaggio. Coprite con altre fette di patate e poi con altro formaggio. Successivamente poi con carne e ripetete praticamente la stratificazione fino a raggiungere il porto. L'ultimo strato deve essere di patate. Chiudete tutti gli spazi vuoti con le patate, compattate, metteteci sopra un filino di olio e infornate a 200 gradi per 60 minuti. Spornate e lasciate intiepidire e con una spatolina staccate delicatamente tutto il bordo intorno. Rigirate lo stampo e tagliate a fette spese con un coltello seghettato. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!